Secondo seminario Empowerment delle donne del subcontinente indiano Domenica 26 aprile 2015 dalle ore 13 Tempio Shigurda e Ara, via Aurelia, fermata Roberto Guerra Giovanni Questa mattina, 29 marzo, ci siamo recati al secondo appuntamento con le donne della comunità indiana Il primo era stato annullato a causa del maltempo Abbiamo così presentato, anche nel Tempio Shigurda e Ara, di via Aurelia il progetto Fraternità, promozione di nuove frontiere per l'integrazione sociale Realizzato con il contributo della Regione Lazio La quasi totalità delle donne si è mostrata interessante Al progetto manifestato la necessità di un percorso di emancipazione proprio di genere Per questo abbiamo deciso di proseguire insieme e di organizzare il secondo seminario del progetto Domenica 26 aprile dalle ore 13, sempre nel loro Tempio Invitiamo a partecipare chiunque si interessa dal percorso Assalamualaikum 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.